Musica Sembra essere un sogno e invece è tutto vero Antonella Palmisano conquista la medaglia d'oro e si unisce alla vittoria di ieri del suo col nazionale Una gara perfetta per l'atleta azzurra che è arrivata al traguardo con indosso la bandiera tricolore L'Italia dunque arricchisce il suo medagliere che ora fa un balzo in avanti anche in classifica a comandare c'è ancora la Cina dietro gli Stati Uniti Gli atleti azzurri dopo una prima fase poco convincente sono usciti fuori con grande energia e dinamismo Continuate a seguirci e seguire il nostro canale per restare sempre aggiornati sulle Olimpiadi di Tokyo Grazie per l'attenzione Vi lasciamo al prossimo video Grazie per l'attenzione